non sapevo colori perché da noi è l'inverso per cui il rosso vuol dire che invece siamo un'onda allora buongiorno a tutti innanzitutto veramente un grazie sentito alla professoressa Colombini che ci ha creduto in questa presenza di un giurista in un terreno che ovviamente non è consono al nostro modo di indagare nemmeno probabilmente ai risultati a cui giungiamo e poi chiaramente all'organizzazione insomma che ha avallato questa idea della professoressa Colombini a farmi essere presente con voi. Dunque io parto subito da ospite quindi come tale rimango un po' in disparte perché chiaramente il giurista in questo contesto come vedrete insomma ha un ruolo abbastanza marginale anche se apparentemente sembra che insomma si cerchi sempre di ricomporre il quadro facendo riferimento a delle indicazioni che ci dà una legge o quantomeno un codice o o comunque un principio comunque non ho slide. Ah perché non si sente perché mi risento rimbombare però forse dall'uno non si sente. E quindi dicevo il giurista in realtà o meglio la legge il ruolo della legge in realtà qui c'entra relativamente. Vi faccio subito degli esempi così insomma cerchiamo di capire perché il ruolo della legge è un ruolo in realtà che ricopre un rapporto in rapporto all'arte diciamo così una posizione in una posizione un po' di inadeguatezza. Innanzitutto cominciamo a vedere se è un sufficiente supporto il ruolo che ha la legge e il legislatore in questa difficoltà soprattutto vista la sessione in cui stiamo parlando in questa difficoltà di identificare degli elementi che possano essere a supporto della veridicità o della falsità di un'opera. Cioè ci sono norme in particolare norme di legge ovviamente in particolare che aiutano eh tutti coloro quindi tutto il pool di tecnici che lavora intorno alla alla identificazione della veridicità o della eh falsità di un'opera ma non molte non molte perché se noi guardiamo il pacchetto di norme disponibili sono norme che sono contenute in parte nel codice penale probabilmente già qualcuno l'avete vista perché io purtroppo non sono potuta essere presente eh nella sessione di ieri ma sicuramente nella parte relativa all'inizio del convegno quando avete parlato insomma del nucleo di contraffazione dei carabinieri che sono addetti a questo tipo di servizio molto probabilmente vi hanno parlato proprio del reato di contraffazione di tutto quello che deriva in sede penalistica dall'aver in qualche modo eh svelato questo questo intento criminoso volto appunto a a divulgare in un certo modo per false quindi con contesti anche penalmente rilevanti e punibili mh quindi tolto quella parte che è una parte un po' più specializzante in realtà diciamo chi chi sono i grandi padri delle norme che possono riguardare noi e che possono poi riguardare anche voi sicuramente il codice dei beni culturali e sicuramente la legge sul diritto d'autore quindi il pacchetto di norme dove noi andiamo a cercare indicazioni che ci possono provare a dare una mano sono sono contenuti in questi due testi vi dicevo un rapporto impari un rapporto poco di ausilio un rapporto di di scarso supporto perché nell'ambito del codice dei beni culturali in realtà le norme che possiamo prendere a riferimento sono abbastanza scarse cioè sono numericamente poche noi non abbiamo un una sezione dedicata in modo particolare a diciamo così al al modo in cui eventualmente il giudice ma prima ancora il giurista quindi in generale tutti coloro che operano nel con il diritto eh riescono a a trovare degli elementi per individuare e e e punire ovviamente le 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 l'opera che non sia eh autentica noi abbiamo norme che sono contenute vi dicevo nel codice dei beni culturali in particolare di questo di questo eh tema si occupano articoli centosettantotto e seguenti vi do dei numeri tanto per avere un punto di riferimento centosettantotto e centosettantanove due norme in realtà non sono molte centosettantotto e centosettantanove in particolare centosettantotto che si occupa di contraffazione si occupa di contraffazione dando delle indicazioni come vedremo molto generiche per quello vi dicevo che poi il legislatore qui alza un po' le mani si rimetterà tutto eventualmente in sede del tribunale alle perizie di tecnici quindi in realtà noi mh sia come interpreti della legge sia come applicatori della legge nel caso in cui ovviamente non è il mio caso ma qualcuno dovesse essere un giudice quindi dovesse trovarsi ad operare in concreto per risolvere questioni controverse in realtà poi si ferma alza le mani e fa subito individua subito i periti di ovviamente d'ufficio e di parte te e di parte eh di parte speciale perché poi non ha molti elementi per decidere se non la responsabilità di decidere quindi il problema ritorna il problema ritorna e quindi è il motivo per cui probabilmente se ne parla perché altrimenti insomma io sarei soltanto venuta a prendere un caffè che non c'era ma è al limite a fare la pausa pranzo quindi probabilmente il problema si pone proprio perché il legislatore non può non è preciso e da una parte non lo è da una parte non può esserlo parla di contraffazione il legislatore come è sicuramente lo inquadra una fattispecie di reato sicuramente quindi lo inquadra una fattispecie illecita lo inquadra i diciamo con una definizione piuttosto generica no della fattispecie imitare un'opera per venderla come originale in generale con dei dettagli poco più più poco meno significativi di questo dando l'idea che ci sia dietro al fare quest'operazione di contraffazione un intento un intento diciamo soggettivo un dolo quindi un intento soggettivo di volerlo fare quindi una volontà specifica di volerlo fare una volontà specifica di volerlo fare con un oggetto però chiaramente generico contraffazione si intesa come imitazione di un'opera dove però nell'opera c'è ricompreso di tutto quindi dall'opera pittorica all'opera grafica all'opera scultoria quindi c'è veramente una genericità anche dal punto di vista dell'individuazione dell'oggetto sicuramente c'è una genericità anche dal punto di vista del tipo di volontà che si richiede per procedere verso quella fattispecie criminosa quella fattispecie quindi punibile la volontà vuol dire tante cose quindi bisognerà indagare qua tutto il profilo giuridico che cosa vuol dire aver voluto proprio in maniera precisa contraffare un'opera si parla in maniera generica anche di alterazione quindi che è l'altra fattispecie che va a punibilità quindi si parla di alterazione anche qui in modo generico si parla di una modifica dell'essenza di un originale quindi si presuppone ovviamente che tutti gli elementi che vanno a che vanno in qualche modo a riempire questa questa fattispecie che viene descritta dal legislatore siano elementi che il giudice non è in grado di conoscere da solo non ha quegli elementi giuridici tali da poter arrivare a un tecnicismo così spinto da capire effettivamente rispetto a cosa si modifica l'essenziale quindi qual era l'essenziale di un originale tale da poter essere alterato modificato e quindi in qualche maniera da dare un risultato di falso no alla fine questo è poi riproduzione anche qui riproduzione è un concetto che porta una punibilità se non c'è un' autorizzazione a farlo laddove naturalmente si parla di riproduzione tecnologica di un originale che sia ovviamente manifestata e che vada in qualche maniera a tradursi in una vendita eh come se fosse originale quindi in qualche maniera un modo anche di divulgazione eh attraverso poi le tecnologie che si sono perfezionate sempre maggiormente quindi aumentano anche la capacità divulgativa e la capacità riproduttiva però anche qui si parte da una base dove il giudice di fatto se non ha un ausilio di fondo di partenza non è in grado nemmeno di capire come e quanto può essere riprodotto e in che termini l'effetto di questa riproduzione può in qualche maniera arrivare a danneggiare l'opera originale quindi da questo punto di vista come vedete quello che ci dà come indicazione l'articolo del codice dei beni culturali che si occupa in modo particolare di questo pacchetto della contraffazione è qualcosa che insomma ci aiuta relativamente poco. Sicuramente qualcosina in più ricaviamo dalle norme sulle diritti d'autore, norme su diritti d'autore che qualcosina in più ci offrono nel senso che norme sul diritto d'autore ci danno come indicazione di fondo l'idea che ci sia una protezione, il bisogno di una protezione sia dal punto di vista diciamo dei diritti morali che dal punto di vista dei diritti patrimoniali dell'artista che è colui che insomma esegue in maniera originale, autentica e quindi autonomamente, liberamente un'opera dichiarata artistica. Qui ovviamente perdonatemi per i termini che non saranno perfetti, io provo a tradurli in termini giuridici, quindi sicuramente avrò fatto anche delle sovrapposizioni non perfettamente in linea con quello che deve essere, per cui passatemi il giuridichese perché a volte mi manca tutta la parte che voi invece considerate già acquisita che è quella della preparazione storico-artistica se non da studi che ho fatto ma poi mi sono fermata lì. Vi dicevo quindi sicuramente qualcosina in più arriva di lì perché questa protezione di un diritto patrimoniale è un diritto morale, si specifica che cos'è un diritto patrimoniale, si specifica che cos'è un diritto morale ma si ritorna sempre al punto di partenza. Siamo sicuri che siamo in grado di identificare l'opera originale su cui poi fa scattare questa protezione, quindi come vedete è un circolo strano, si rincorre sempre ma ritorna sempre al punto di partenza. Diritti patrimoniali che implicano naturalmente uno strumento di tutela che va a proteggere il frutto del lavoro e che associa il frutto del lavoro a quel soggetto artista che l'ha prodotto, quindi il problema è l'attribuzione di paternità naturalmente, quindi è lì che poi si rinfrange il problema della protezione. Va bene tutto il meccanismo protettivo che può pensare di impostare una legge sul diritto d'autore, legge sul diritto d'autore che appunto poi permette di utilizzare questa protezione anche a tempo indeterminato perché insomma i diritti morali sappiamo insomma bene o male che sono inalenabili, che non sono trasferibili, che vanno anche dopo la morte o l'esaurimento dei diritti patrimoniali, però di fatto rimane il punto che sulla veridicità dell'opera, sull'originalità rimaniamo sempre su quel crinale strano che se viene in qualche maniera chiarito da chi ha la competenza a farlo, il giudice si può limitare solo a un passaggio successivo ma non a un passaggio prodromico e secondo me poi il punto diciamo un pochino più di rottura che diciamo si verifica quando effettivamente ci si rende conto che il rapporto tra legge e arte è un rapporto fallimentare e quando questi pochi schemi che abbiamo quindi queste poche norme che abbiamo recuperato dal codice dei beni culturali, queste poche norme che abbiamo recuperato dalla legge sul diritto d'autore diventano inapplicabili a fatti specie artistico di manifestazione artistica completamente di nuovo conio, comunque diciamo di recente conio, non nuovissimo conio. Mi fa piacere che la professoressa Colombini abbia citato la street art perché era proprio l'esempio come diciamo elemento di eccentricità del mio discorso a riprova del fatto che il diritto non è sempre adeguato a rispondere ai bisogni dell'arte soprattutto laddove i bisogni dell'arte sono quelli di certezza identificativa che il diritto non può assolutamente promettere. Anche perché qui faccio un passo laterale, il ruolo della giurisprudenza cioè di quelli che sono i casi che si sono in qualche maniera maturati nel corso delle varie cause che si sono succedute negli anni aiuta fino a un certo punto perché come ripeto il giudice non è un tecnico per cui sicuramente dal punto di vista della ponderazione finale ha un ruolo importante ma la ponderazione finale che poi permetterà una decisione sul caso è una ponderazione che non ha senso farla se non c'è un ausilio tecnico per cui si ritorna al solito problema che poi è vero che la responsabilità del giudice è molto importante però una responsabilità in qualche modo guidata da perizie di tecnici che possono essere incaricati direttamente o nominati direttamente dal giudice o non supportati ovviamente da perizie di parte tenendo conto che poi la responsabilità c'è del giudice perché è lui che formula i quesiti peritali cioè lui che chiederà poi ai periti di indagare su un certo ambito e su una certa cosa cioè sull'oggetto della controversia quindi il problema poi torna a essere giuridico perché il modo in cui viene formulata la domanda al perito e il modo in cui viene rivolto e aperto il quesito peritale sarà quello che permetterà poi al tecnico di lavorare in quella direzione e non un'altra quindi in quel senso probabilmente un po' di responsabilità è un ruolo un pochino più di peso il giudice il giudice ce lo può avere ma poi alza le mani di fronte ovviamente la competenza che non è inutile poi ci sono sicuramente giudici molto preparati ma questo non vuol dire che dal lato professionale sono in grado di poter diciamo inserire le cognizioni personali in un profilo professionale che è quello su cui sono chiamati a decidere quindi da questo da questo lato l'inadeguatezza continua a essere ancora abbastanza rilevante e il massimo dell'inadeguatezza appunto lo troviamo quando il diritto si ferma di fronte a fenomeni artistici che non sa filtrare perché di fatto non riusciamo a inserirli negli schemi che abbiamo il fenomeno della street art è un esempio abbastanza palese perché il fenomeno della street art ovviamente per noi di importazione più o meno si ritiene sia nato negli Stati Uniti più o meno fino agli anni sessanta con delle idee abbastanza nette no nasce con un fenomeno caratterizzato da una realizzazione di opere artistiche più o meno generico il concetto ma insomma con una realizzazione di eh di opere di un certo tipo per ora rimaniamo generici in contesti urbani che era comunque la caratterizzazione principale realizzazione in qualche maniera libera ad ogni forma di autorizzazione quindi veniva realizzata nella maniera più aperta e fruibile e con una visibilità massima al pubblico quindi qui saltano tutti gli schemi saltano tutti gli schemi perché manca la necessità di dichiarare la cosa originale fino a un certo punto perché in realtà si vede nel corso del tempo che eh chi realizza un certo tipo di opere comincia a caratterizzarsi e in qualche modo a firmarle non solo proprio fisicamente perché poi c'è una un'identificazione anche dell'autore in base alla firma ma in base alla caratterizzazione e la soggettivizzazione più o meno che utilizza quel determinato autore per rappresentare quel fenomeno in un certo modo quindi vabbè da Banski in giù insomma chiaramente poi gli esempi sono molti eh qui abbiamo un problema del diritto a capire che cosa fare perché innanzitutto si tratta di un'opera che eh una manifestazione artistica rimaniamo dicevo ancora generici che non vuole il diritto d'autore non lo vuole cioè non lo vuole lo vuole fino a un certo punto perché vuole comunque l'associazione dell'opera al soggetto però non vuole le conseguenze economiche cioè non vuole in qualche maniera che si attivino come meccanismi di tutela dei diritti patrimoniali connessi e annessi alla realizzazione dell'opera quindi abbiamo sicuramente un problema legato a quello che nasce insieme alla street art e a quello che consente alla street art di essere tale cioè in qualche maniera la eh divulgazione la ehm l'arricchimento di certi contesti sociali l'arricchimento anche di certe eh di certe forme diciamo di di rinascita e di sviluppo di certi contesti sociali oggi la street art è associata sicuramente a valorizzazioni del territorio a forme di rigenerazione urbana addirittura attraverso mh possibilità di avere degli sgravi eh economici dal punto di vista della eh tendenzialmente detrazione dei materiali utilizzati per realizzare l'opera laddove poi l'amministrazione comunale consenta di utilizzare certi spazi in certi contesti degradati quindi sicuramente eh il fatto che non ci sia un bisogno una necessità e anzi diciamo intrinsecamente ma anche la necessità di richiedere di percorrere le strade del diritto d'autore qui sicuramente eh beh la legge si ferma e va avanti l'arte diciamo così quindi per ora siamo veramente una zero ma in maniera abbastanza importante altro profilo su cui la legge si ferma è il fatto che naturalmente qui non ci sia la possibilità e questo insomma ci sono stati casi abbastanza eclatanti non ci sia la possibilità né di decontestualizzare né in qualche maniera di rimuovere e eh operare una gallerizzazione del fenomeno artistico che ha una manifestazione fruibile in certi contesti e tale se rimane lì quindi hanno provato per esempio tutta una serie di eh passaggi di gallerizzazione della street art insomma ci sono state situazioni dove sono stati rimossi parti dei 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 supporti su cui era stata prodotta quest'opera e sono stati introdotti in contesti museali ovviamente adeguati però questo chiaramente ha fatto sì che il concetto di street art saltasse quindi non ci abbiamo più il non ci abbiamo più la stessa caratteristica iniziale problema che si pone ulteriore che la legge vede ma non sa risolvere quello di capire che che sorte ha l'opera su un un che ovviamente presuppone una una base su cui viene realizzata eh sulla proprietà della base su cui viene realizzata se c'è un proprietario che ovviamente non ha autorizzato non ne sapeva nulla e comunque rimane proprietario del supporto su cui è stata realizzata l'opera va da sé che qui comincia veramente il diritto a avere dei problemi perché o si eh manifesta in un certo modo un tipo di eh diciamo così di eh esposizione artistica ammettendo che quel tipo di esposizione artistica passi da un da da una mancata autorizzazione e quindi da una fruibilità collettiva generale oppure si tutela in qualche modo il diritto di proprietà di chi poi ha possibilità visto che è proprietario di ordinare la rimozione o di farla direttamente a sue spese quindi cancellando tutto tutto quel percorso che è stato fatto da quell'artista quindi in questo senso sicuramente ecco la street art si pone come ehm elemento di rottura anche perché e qui mi fermo eh fra pochissimo anche perché teniamo conto che oggi laddove la street art per esempio come diceva la professoressa colombini guardate a Lucca sì ci sono tanti casi proprio di una cooperativa livornese che peraltro conosco a cui è stato affidato il compito un po' di in un diciamo in un grande progetto poi di 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 riqualificazione urbana di valorizzare alcuni alcuni ambiti e alcuni eh spazi eh esterni nel nella città di Lucca in certi in certi quartieri un po' più diciamo tra virgolette moltissimi virgolette degradati mh quindi qui eh sicuramente il problema è che c'è un percorso dove l'amministrazione umanale non solo è consapevole ma è in qualche maniera fautrice di un un diciamo un'implementazione di questa manifestazione artistica e qui il diritto però non può non può far finta di non vedere perché il diritto dov'è che deve vedere se io autorizzo in qualche maniera un percorso di street art e lo faccio pubblicamente vuol dire che poi quel bene mi diventa probabilmente quel bene dove è ovviamente eh lo considero supporto quindi il bene su cui e poi si è manifestata quella creazione artistica mi diventa un bene che nel codice dei beni culturali potremmo ricondurre beni paesagistici quindi in quanto tale mi attiva tutta una serie di meccanismi di tutela e di protezione e di valorizzazione quindi mi attiva tutta una serie di meccanismi che il comune nel caso comunale ma ovviamente istituzioni di alto livello di in altri casi non possono non considerare quindi devono considerare sempre un processo di manutenzione devono considerare sempre un processo di valorizzazione devono considerare sempre quindi un processo di di protezione in generale di questa di questa opera artistica e allora cominciamo a chiudere da dove siamo partiti come vedete io sono poco soddisfacente in queste in queste esposizioni perché il diritto veramente è proprio un ospite che deve rimanere in punta dei piedi perché se non abbiamo gli strumenti per entrare in un settore che tutto sommato non riusciamo a toccare da vicino ma perché non possiamo farlo ci sono dei limiti oggettivi del diritto che senza il filtro del tecnico non possono essere superati quindi il diritto di cosa si può occupare in relazione in particolare al problema diciamo in discussione in questa in queste due interessanti giornate di convegno che sono proprio mirate a cercare di capire il peso del falso il peso del falso un peso guardate più artistico che non giuridico se non ovviamente per i profili che avete già visto perché di fronte a un falso di fatto il diritto a poche armi di difesa può inibire può bloccare può ordinare la rimozione nel caso ora non parlo della street art ma parlo ovviamente delle opere contraffatte di un altro genere può sicuramente eh operare con delle sanzioni può operare con delle mh punizioni penali può operare addirittura con delle eh delle situazioni un po' più diciamo importanti con delle reazioni più forti dell'ordinamento però tutto questo presuppone che sia certi che sia così se non è se non abbiamo gli strumenti per accertare che sia così la reazione può essere anche adeguata ma ci deve essere una diciamo più che altro un'adeguatezza secondo me nel modo di rappresentazione di quella realtà su cui deve intervenire il diritto quindi è lì che secondo me il problema arriva a conclusione da dove siamo partiti noi non abbiamo come giuristi spesso tutti gli elementi e credo che non li avremo mai per cercare di intervenire adeguatamente se non dietro un supporto tecnico che è poi tutto vostro quindi noi possiamo reagire per dare probabilmente una tetela forse più adeguata possibile quello è forse l'unico ambito in cui la legge può assicurare qualche cosa ma la legge non può e questo credo non lo possa mai arrivare a dare una mano concreta nella creazione della fattispecie che poi porta al bisogno di tutela quindi in questo senso molto probabilmente il giurista gli schemi che ha sono schemi che risultano parzialmente inapplicabili nell'ambito nell'ambito insomma del della contraffazione e diciamo e dei danni derivanti a livello proprio generale non soltanto economica non soltanto sociale ma a livello proprio di immagine anche l'immagine di un paese dove ovviamente è ovvio che ci sono degli artisti che sono proprio collegati in maniera in maniera diretta a determinate provenienze quindi in questo senso il diritto è uno spettatore attento che è pronta ad intervenire quando viene chiamata a scendere in campo ma non può da questo punto di vista secondo me partire come diretto giocatore in campo perché non non penso che avrà mai degli strumenti adeguati quindi su questo da ospite sono entrata da ospite rimango e mi fermo così lascio la parola a chi invece aiuta me grazie grazie valentina è stata chiarissima è perché noi siamo messi sì sì è stata chiarissima io ho una domanda specifica da fare aspetta il tutto mondo a pisa street art è stato dipinto da chitering di proprietà del comune perché lui l'ha donata alla città di pisa il muro è proprietà dei frati sì credo di sì perché appartiene al sistema lì della chiesa su cui è dipinto di chi è la tutela del comune quindi devono nel momento in cui è stato riconosciuto il comune nel momento in cui sì nel momento in cui è riconosciuto come soggetto che è riconosciuto come bene culturale quindi probabilmente sarà ci sarà stata una dichiarazione o qualcosa di sì sì dai fatti per quello sicuramente nel momento in cui c'è una dichiarazione c'è il compito di tutela e che viene affidato in maniera quasi doverosa all'amministrazione più vicina quindi in sussidiarietà vanno al comune quel caso sì e se il comune non fa niente dovrebbe arrivare il giurista però il giurista si ferma perché di fronte al comune a seconda di chi alza le mani però dovrebbe arrivare il giurista perché ci sono regue su questo ci sono regue questo il codice ci aiuta questo il codice ci aiuta addirittura ci sono profili penalistici se l'amministrazione comunale non interviene pensiamo a situazioni di degrado dell'opera no quindi o di vandalismo la vandalizzazione dell'opera è abbastanza comune e laddove poi c'è una tutela del comune doverosa anche a livello mettete due telecamere fate qualcosa ma insomma quantomeno proteggetela prima che arrivi il vandalismo ma la vandalizzazione è abbastanza comune quindi sicuramente il comune alle tutte le responsabilità e e poi non dico altro perché conosco un po la storia di questa cosa quindi mi fermo lì beh giusto per conoscenza a Pisa a Palazzo Blu è iniziata una nuova mostra su Kitering molto interessante chi ha tempo la visita ah sì io già ero già a casa no no è difficile che poi ci siano secondo me situazioni perché poi è proprio un linguaggio diverso è strano ma una delle poche volte in cui il diritto rimane un po' perplesso perché non sa come intervenire nel senso che non sa come aiutare perché non da giuristi abbiamo veramente pochi strumenti per per capire certi livelli tecnici e peraltro non lo potremmo nemmeno fare sarebbe una responsabilità del giudice e il giudice non si vuole e non si può prendere quindi ci dobbiamo per forza fermare domande no va bene quindi andiamo avanti con la prossima comunicazione da parte di Luca Zamparo grazie l'archeologia legale una disciplina fra ricerca umanistica metodologie scientifiche tecniche giurisprudenziali per il conoscimento dell'autenticità tutti eh ringrazio per questi due giorni e non sono quei ringraziamenti da obblighi formali ma è un ringraziamento vero perché per chi si occupa di falso capita spesso capita troppo poco spesso di poterne parlare e di confrontarsi con profili differenti e devo ammettere che questa presentazione eh ha risentito molto di questi due giorni perché ieri pomeriggio a un certo punto modificavo aggiungevo eh proprio perché eh ci sono stati tanti spunti interessanti parto da questo eh un insieme di immagini da un ehm da un incendio siamo a Rio de Janeiro il museo nazionale di un paio d'anni fa eh il caso del furto della gioconda un i danni provocati da un terremoto siamo a eh Zagabria eh durante il lockdown del duemilaventi eh ovviamente non potevo non mettere i falsi modigliani ehm come non potevo mettere uno dei falsi più importanti di questo periodo eh tutto questo sì 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 no tranquillo sì 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 grazie e tutto questo in realtà in cosa eh eh rientra dovete perdonare ma eh un archeologo vive di classificazioni e quello che farò oggi è classificare in realtà tutto questo rientra in una disciplina molto più ampia che non spesso viene applicata ai beni culturali ma di matrice inglese americana piano piano iniziamo ad applicarla è della gestione del rischio tutto quello che abbiamo visto in questo in questi due giorni è gestire il rischio lo facciamo per il caso dei beni culturali ma come lo facciamo analisi statistica la memoria che è quello che stiamo facendo noi oggi e l'osservazione diretta tutto questo in cosa rientra eh io ringrazio la professoressa Giomi perché eh ha semplificato di molto il mio intervento di adesso e soprattutto la voglio rincuorare io imparo tantissimo già i giuristi e lavoro i giuristi H24 perché proprio affrontare il falso in maniera multidisciplinare che è quello che facciamo noi oggi è il modo corretto tutto questo rientra nell'articolo 3 del codice dei beni culturali in una piccoli in due piccolissime parole adeguata attività conoscitiva tutto lì e si dice che il codice non è scritto bene in realtà ha delle peculiarità stupende il codice dei beni culturali e questa è una di quelle ma perché sì mi sento meglio questo perché questa è una rialborazione dei dati che annualmente vengono forniti ehm dal comando tutela patrimonio culturale una rialborazione che ho fatto sugli ultimi dieci anni se andate a guardare ehm abbiamo in arancione in alto il reato di ricettazione se parlerete con chiunque del comando vi saprà dire che è quello più semplice eh ci sono poi i reati contro il paesaggio anche quelli estremamente applicabili il terzo reato è la contraffazione negli anni recenti questo per darvi altri numeri sempre a livello statistico 734 sono le setenze di eh corte di cassazione a livello penale fra 2016 e 2020 in materia di beni culturali non sono poche 572 eh scusate quelle generali eh 572 di queste 734 sono quelle penali molte sono sulla contraffazione 22 mila più o meno sono fra 2015 e 2019 dati del ministero della giustizia eh le sentenze emesse nei tribunali di ogni ordine e grado in materia di beni culturali a livello penalistico circa 150 sono le sentenze più importanti dei tar a livello di beni culturali quindi la materia che stiamo trattando oggi non è una materia del passato anzi è una materia che riguarda la società contemporanea in tutte le sue forme perché perché la contraffazione di beni culturali in questi dieci anni è attorno ai 60 mila oggetti sequestrati proprio dall'arma dei carabinieri per una stima di circa 5 miliardi di euro che ha portato a 2.123 persone denunciate bene adesso vi dico però che il ministero dello sviluppo economico nello stesso arco di tempo ha calcolato che i beni contraffatti in italia con l'opera di polizia di stato agenzia eh delle dogane guardia di finanza e arma dei carabinieri sono state 570 milioni nello stesso periodo di tempo che hanno portato a un danno economico di 5 miliardi la stessa identica cifra quindi questo non è un fenomeno minore questo è un fenomeno della società contemporanea le tipologie di falso e qua proprio mi viene in aiuto il diritto mi viene in aiuto la giurisprudenza mi viene in aiuto la dottrina i falsi sono di più tipi noi storici dell'arte archeologi siamo abituati a considerarli in altre maniere però sfruttiamo il nostro ordinamento giuridico il falso criminalizzato quelli che abbiamo visto in questi giorni ma c'è anche il falso legalizzato perché magari è presente una dichiarazione che dice questo è un falso che secondo l'articolo 179 del codice è la modalità corretta di agire e vi posso assicurare che in italia ce ne sono tantissimi copie e imitazioni cose diverse dall'originale per varie caratteristiche e poi c'è il falso grossolano il cosiddetto reato impossibile che è cito una sentenza di cassazione quel reato per cui anche il giudice se ne rende conto da solo una sentenza del 2017 archeologia versus archeologie faccio questa premessa perché perché voglio entrare da sempre partendo dall'ordinamento giuridico e dal tutti gli strumenti che ci vengono dati voglio parlare anche di un recente decreto ministeriale 244 nel 2019 che per tutti i professionisti della cultura lo conoscono che ha andato a mettere un po di paletti tutti avremmo sperato ne mettessero di più ci dessero l'ordine non ce l'hanno dato però va bene ci siamo riusciti almeno a portare a casa l'elenco nazionale in questo caso qua l'archeologia viene divisa su più fronti archeologia preventiva lo scavo archeologico per dire la tutela chiamiamola per il momento archeologia giudiziaria legale forense la museologia l'archeologia pubblica la ricerca bene affrontiamo un attimo l'aspetto di tutela in ambito internazionale esiste questa definizione archeologia forense se poi voi andate a vedere chi sono gli archeologi forensi nella letteratura scientifica internazionale sono antropologi sono antropologi che si occupano di determinate cose con il metodo archeologico bene non sono archeologi sono due robe differenti archeologia giudiziaria archeologia giudiziaria ha un piccolo difetto nel termine si è diffusa tanto in italia ma ogni tanto sarebbe da fare un po di latino perché giudiziaria come mi insegna anche la docente di diritto che mi ha preceduto implica il giudizio bene noi come abbiamo visto in questi giorni storici dell'arte archeologi diagnosti restauratori non emettiamo giudizi noi emettiamo pareri e sono due cose estremamente diverse soprattutto dal punto di vista giuridico l'archeologia legale dall'ex legis ovviamente tutto ciò che concerne la legge ecco perché alla nel nostro gruppo di ricerca a ambito di università di padova preferiamo mantenerci su questo ambito che cos'è quindi archeologia forense la ricerca e recupero di persone datazione di ossa e oggetti vi posso assicurare che in tanti anni di archeologia più sto lontano da un cadavere più sono contento e me ne sono capitati comunque incidenti internazionali ci sono tanti casi di ultimo esempio ucraina un paio di anni fa l'incidente aereo che ha creato anche un caso diplomatico internazionale in quel caso lì è stato inviato un intero team di archeologi forensi per ricostruire anche le dinamiche ed era un team internazionale presieduto dall'ONU l'archeologia giudiziaria tutto ciò che arriva a un giusto processo bene ma non è che tutto arriva a un giusto processo tante cose che abbiamo visto anche in questi giorni non non finiscono lì allora l'archeologia legale è qualcosa che ingloba tutto questo è l'insieme delle riflessioni teoriche e pratiche per il raggiungimento della risoluzione di una controversia inerente ai beni culturali di qualsiasi tipo in qualsiasi luogo cosa può fare un archeologo legale valutazione stime inquadramento storico geografico di un oggetto di una collezione ricordiamoci che non è ancora chiarito nel nostro ordinamento che cosa sia una collezione e su questo potremmo fare altri due convegni valutazione inquadramento storico geografico culturale di una zona di interesse archeologico valutazione di interventi e comportamenti eseguiti sui e con i beni culturali beni archeologici nel nostro caso valutazione dell'utilizzo esplettamento di pratiche inerenti il commercio il trasferimento quando le soprintendenze vengono a sapere di più della presenza di oggetti e di collezioni eredità è il modo migliore lascio un'eredità faccio testamento il notaio ha l'obbligo di informare la soprintendenza ed eccolo lì l'ingresso e l'uscita dal territorio nazionale come c'è stato presentato ieri dal capitano del nucleo analisi del mercato dell'arte l'analisi del rapporto fra mondo antico e mondo contemporaneo perché perché tutto quello che noi vediamo oggi in realtà ha delle basi nel passato il commercio dell'arte non nasce ieri il commercio dell'arte nasce nel secondo secolo nel secondo secolo avanti cristo se vogliamo dire la falsificazione non nasce neri nasce nello stesso periodo e abbiamo anche marziale che ce lo dice come tanti altri l'analisi delle legislazioni l'archeologia non disseppellisce cose disseppellisce uomini e le loro civiltà ricordiamoci questo siamo una società siamo più società e dobbiamo studiare quello allora quali sono le conoscenze necessarie di un archeologo legale sicuramente l'archeologia la storia dell'arte la storia la cultura materiale l'osservazione che citavamo prima teoria e tecnica del restauro così come la diagnostica dei beni culturali devo sapere che tipo di indagini posso e devo fare in determinati momenti come porre la giusta domanda a me è sempre stato insegnato così in tutti i miei esami di archeometria arrivare con la giusta domanda dal diagnosta non dirgli scopri tutto è cosa cosa deve scoprire no devono dobbiamo essere insieme a lavorare per le risposte catalogazione ricerca d'archivio i provenance studies il mercato dell'arte le quotazioni assolutamente sì ma perché perché il mercato dell'arte implica conoscere la società implica conoscere tante dinamiche e quindi anche conoscere in realtà dove si muoverà la falsificazione diritto del patrimonio culturale e non è solamente diritto amministrativo è diritto penale procedurale penale civilistico eccetera eccetera metodologia della ricerca gli ambiti di impiego attività peritale presso i tribunali la procura della pubblica polizia giudiziaria l'attività peritale per il ministero della cultura spesso e volentieri ma così anche studi legali commercialisti case d'aste mercati antiquari fondazioni banche assicurazioni collezionisti privati come si fa tutto questo è in realtà non si sa perché come si diceva anche ieri c'è un grandissimo in questo caso vuoto legislativo negli elenchi nazionali la voce valutazione expertise autentica per l'archeologo di prima fascia quindi il livello più elevato così come lo storico dell'arte di prima fascia è la prima voce ancora non è chiaro se il ministero l'ha fatto volutamente però quella è la prima voce loro possono noi possiamo elenchi degli esperti dei periti presso le camere di commercio esiste anche questo ruolo 22 l'albo dei periti e dei consulenti tecnici d'ufficio presso il tribunale della repubblica del proprio provincia di residenza ma come si diceva ieri articolo 21 della costituzione un curriculum adeguato e l'albo dei periti in realtà siamo dagli anni 70 che aspettiamo l'applicazione dell'albo dei periti d'arte e stiamo ancora aspettando e aspetteremo tanto tutto questo cosa comporta sto andando veloce però valutazione storico critica studi sulla provenienza l'elaborazione di stime la verifica dell'autenticità queste sono le principali cose che ci vengono chieste e tutto questo vuol dire portare alla redazione di perizie e di expertise ma come si diceva prima non esiste una vera perizia cioè un formulario un protocollo per scrivere una perizia allora quella il formulario a cui possiamo avvicinarci qual è quello presente presso i tribunali quindi perché perché quello che la dottrina e la giurisprudenza hanno pian piano fortificato e vi dico che due sentenze molto interessanti su questo tema sono una del 2020 e una di tre mesi fa quindi come vedete è una cosa ancora estremamente attuale vi ricordo che una valenza strumentale e integrativa è un diritto delle parti è oggetto di obbligo del giudice però solo laddove una questione richieda rigore scientifico e adeguate garanzie in questo caso soprattutto la scuola giuridica romana col magistrato cipolla allievo del magistrato paolo giorgio ferri che si occupò dei più grandi ritorni in italia con il comando tutela negli ultimi vent'anni ritiene che anche per l'arte e l'archeologia ormai ci sia l'obbligo in realtà tanto quanto chiamare un medico legale come si fa questa perizia tre elementi che fortunatamente sono veramente felice perché ieri sono tornati spesso analisi stilistica analisi tecnico scientifiche e analisi sulla provenienza ricordo anche che questo lo dice la corte di cassazione serve creare una procedura sistematica che porti alla determinazione dei fatti e la produzione di conclusioni tecniche per quello noi non emettiamo giudizi ma pareri perché noi rilasciamo conclusioni tecniche basato su cognizioni e ricerche effettuate tante volte mi scontro con perizie che la bibliografia più aggiornata di 30 anni fa va bene cioè sono felicissimo di andare contro in dibattimento perché vuol dire che la smonto in pochi minuti perché perché spesso si casca su certe cose e per quale motivo lo facciamo lo facciamo per servire la giustizia che vuol dire servire la nostra società civile che è una cosa non da poco come dovrebbe essere questo giudizio è un giudizio tecnico seguito da un metodo scientifico quindi dovrebbe essere verificabile evidente e logico non posso contraddirmi perché perché le sentenze si basano sulla logica multidisciplinare e obiettivo come si basa come si valuta idoneità credibilità affidabilità del metodo sono le tre cose che qualsiasi avvocato vi chiederà nel momento in cui voi vi siedete a fare una perizia in sede di tribunale conoscenza e competenza teorica e pratica nel settore di riferimento credibilità in ambito peritale e scientifico ma soprattutto aggiornamento del metodo delle tecniche degli strumenti validità riconosciuta coefficiente d'errore e come si verifica vado veloce perché sono tutte cose che immagino conosciate molto bene expertise un documento ufficiale che contiene tutte le caratteristiche di un'opera ma non contiene la valutazione economica che è tipica della perizia il certificato di autenticità è una cosa più legata all'arte contemporanea rilasciare certificati di autenticità per il mondo archeologico per l'ambito archeologico potrebbe essere quasi una follia però queste sono le tre formule che la dottrina ci consente allora come si accerta l'autenticità come si ricostruisce la provenienza dall'insieme di quei tre metodi uno non esclude l'altro ma non è che rispondendo alle domande di uno di questi metodi arriviamo a soluzione bisogna sempre lavorare insieme ieri a pranzo è stato molto interessante perché ero in un tavolo di restauratori e ci siamo confrontati su la necessità anche di interfacciarci bene noi lo facciamo spesso e volentieri è quello il modo è quello l'ambito per me archeologo ovviamente io parto da dire che cos'è che cos'è questo è una penna chi l'ha fatta come l'ha fatta di che materiale è in che epoca può essere fatta e poi ottengo tutte le informazioni necessarie l'analisi formale le analisi di conservazione e restauro chi ci ha messo mano come ci ha messo con che strumenti con che tecniche riesco anche a datare le opere spesso e volentieri quando ci occupiamo di questo materiale ci occupiamo di materiale decontestualizzato che ovviamente noi non sappiamo non nulla su di lui lo studio epigrafico l'analisi stilistica iconografica sebbene storico dell'arte archeologo chiamatene come volete quella la tengo per ultima perché è un insieme di informazioni a cui devo arrivare e queste due frecce cosa vogliono dire che è una scala questa graficamente non sono riuscito a disegnarla però è una scala si sale si scende non è perché uno di questi elementi mi dice è falso che allora è falso è come una somma in matematica io mi ricordo quel più più meno meno quelle robe strane è la stessa cosa identico si va e si scende perché questo è il modo corretto poi di arrivare a una formulazione che sia credibile per gli altri perché se quello è il contesto interno di un oggetto ricordiamoci che c'è il contesto esterno chi l'ha fatto quanto guadagnava quando l'ha fatto come è girato questo oggetto noi tutte queste cose le applichiamo per i vasi antichi per esempio le applichiamo per le sculture ma le applichiamo benissimo e possiamo applicare per qualsiasi oggetto di qualsiasi natura il rinvenimento associazione i proprietari spesso volentieri mi capita quando faccio queste cose che chiedo anche con in collaborazione con la soprintendenza prima di prendere in deposito tutto il materiale fotografiamo la stanza dove era conservato perché anche la posizione degli oggetti all'interno di un luogo ci può dare tantissime informazioni ed ecco alcuni esempi in questo caso qua vorrevano riprodurre un alabastro un corinzio perfetto diciamo che rimandati all'esame di storia dell'arte classica perché le fo la dimensione la cura dei dettagli non è assolutamente pensabile in questo caso qui tutti i personaggi sono identificati come kalos rimandati in greco in questo caso qua questo qua è un piccolo schifo sin ceramica in stile di ignazia teoricamente questo qua è un falso come tutti i due che ci precedono ma perché perché guardate queste linee che sono incise oltre al fatto che sono state campite poi di rosso per quale motivo per andare a ingannare l'occhio dell'osservatore perché la ceramica di ignazia il corpo ceramico dovrebbe essere di colore rossastro quello lì era di colore giallognolo e quindi si sono accorti di questa cosa e sono andati a dipingerla ma in più hanno fatto questa cosa con uno strumento metallico perché vi posso assicurare che nella ceramica antica fare una linea così dritta è impossibile soprattutto con la velocità del tornio usata all'epoca altro bellissimo caso questo capita una volta al giorno sulla mia scrivania il vasi pieni di incrostazioni stranamente le incrostazioni non sono mai sulle figure per quale motivo perché se il vaso è sporco di terra il vaso è vero viene da scavo ma se copro le figure in quel caso lì riesco non riesco a venderlo alla cifra che vorrei allora le figure le mostro però lo sporco di terra per dire che è d'escavo questo capita vi posso assicurare spessissimo oppure produzioni come i fondi bianchi peccato che però la ceramica a fondo bianco ci sono una cinquantina di vasi in tutto il mondo a un certo punto arriva un lotto in soprintendenza erano tutte ceramica a fondo bianco sembrava una scoperta eccezionale purtroppo non era così e vi ho fatto vedere un po di vi ho fatto un po di teoria e mi perdonerete vi ho fatto vedere un po di metodo non potendo entrare nello specifico ovviamente ma vi dico anche un'altra cosa tutto questo da dove nasce nasce da una necessità in realtà cinque anni fa a un certo punto abbiamo dovuto dire come ci comportiamo io la mia docente a cui devo molto cinque anni fa dissi so riconoscere un vero da un falso quindi sono molto contento per la domanda della tavola rotonda di questa sera perché è vero dopo tanti anni di studi so riconoscere un velo dal falso la risposta è stata no da lì abbiamo cambiato tutto ci siamo andati da fare ma perché perché c'è arrivata una donazione ente pubblico non proprio piccolino come l'università di padova riceve una donazione che il consiglio di amministrazione subito velocissimi dicono di sì bene sono tutti falsi quasi tutti questa qua alle mie spalle si vede poco ma per ovvi motivi era come era la casa del collezionista una delle stanze immaginate le altre da questo nasce il progetto memo la memoria degli oggetti un progetto sostenuto dalla fondazione cassa di risparmio di padova e rovigo progetto di eccellenza della fondazione patrocinato dall'arma dei carabinieri e patrocinato da icom italia in collaborazione con il dipartimento di geoscienze il professor artioli il dipartimento di diritto il dipartimento di psicologia perché volevamo anche andare a capire perché i falsari fanno certe cose qua vi ho messo una frase di mark jones del famosa mostra del british del 90 i falsi ci possono insegnare molte cose soprattutto ci mostrano la fallibilità degli esperti e infatti quello lì fu il caso della tiara di saitaferne che ingannò il museo del louvre e tenne banco per molto molto tempo quella lì era una delle cartoline ironiche della stampa francese dopo questa cosa allora noi di cosa ci occupiamo studiamo e cataloghiamo i materiali facciamo analisi del collezionismo e la falsificazione e valorizziamo il materiale ceramico autentico ovviamente ma lo facciamo in questa maniera abbiamo creato un database strumento per la catalogazione è online ci si può tutti possono iscriversi perché dal momento del suo rilascio sarà open noi siamo per l'open science quindi tutto quello che facciamo sarà aperto a chiunque con gradi differenti ovviamente e tutto quello che facciamo l'abbiamo fatto in collaborazione con l'ICCD l'abbiamo fatto in collaborazione con la soprintendenza abbiamo fatto in collaborazione con la direzione regionale musei quindi tutto quello che facciamo lo facciamo veramente una sorta molto collaborativa un sito internet potete progetto memo punto it trovare tutte le informazioni delle attività che svolgiamo stiamo sviluppando un app o quasi concluso stiamo sviluppando un app e quella è un serious game è un gioco per avvicinare le persone all'archeologia da un lato ma per introdurle ai rischi del patrimonio culturale e quindi incentivare una cultura della legalità abbiamo fondato una rivista dall'anno scorso il primo numero se tutto va bene esce nel primi mesi del 2021 authenticity studies international journal of archaeology and art vi aspetto da questi due giorni qua ho capito che vi aspetto siete tutti ben accetti perché perché è assolutamente multidisciplinare dentro abbiamo un comitato scientifico internazionale open access gratuita ci tengo a dirlo tutto sarà caricato in pdf tutto secondo la normativa ambur altra cosa da specificare abbiamo creato dei momenti di formazione e li abbiamo istituzionalizzati siamo la prima università in italia a far questo oltre roma 3 un corso di laurea specifico a tre voci l'archeologo lo storico dell'arte il geologo chimico perché così cerchiamo di andare a affrontare proprio dal punto di vista multidisciplinare l'argomento un laboratorio di autenticazione che mi vede come docente in cui mettiamo a lavoro gli studenti sui beni il loro scopo è scrivere una perizia loro non sanno se l'oggetto davanti loro è un oggetto vero o falso è un'esperienza incredibile perché i falsi cosa ci permettono ci permettono di comprendere meglio in realtà il materiale autentico perché ci sfidano e quindi dobbiamo migliorare le nostre conoscenze ci permettono di capire la ricezione del mondo antico nell'età contemporanea moderna ci permettono di studiare il fenomeno del collezionismo mercato collezionismo falsificazione vanno insieme sempre ridefiniscono le nostre tecniche di indagine ci permettono di formare i professionisti della cultura del futuro e diffondere una cultura della legalità ad ampio spettro nella società lo abbiamo fatto con una prima pubblicazione adesso anche qua entro i primi tre mesi usciranno altri due nostri volumi antropology of forgery e vi ho messo l'emblema il motto della nostra università universa universis patadina libertas di tutti per tutti la libertà dell'università di padova questo credo sia anche il motto della terza missione delle nostre università e quindi proprio ci crediamo il database riporta già una sezione per l'archeometria una sezione per l'autenticazione una sezione con immagini ad alta definizione e modelli 3d gratuita disposizione di chiunque fake news la app che stiamo creando e sviluppando in questo momento momenti di lavoro un muc quindi un corso online gratuito che sarà a disposizione e lì fatto proprio in collaborazione fra il dipartimento di beni culturali il dipartimento di diritto pubblico della nostra università quindi giuristi e archeologi insieme gratuito online a disposizione spero a gennaio e infine argilla storia di vasi aperta a vicenza gallerie di palazzo leoni montanari intesa san paolo una mostra curata da monica salvadori monica baggio dal sottoscritto la terza sala presenta una sezione dedicata a questo argomento nelle teche non ci sono le didascalie e c'è una sfida sapresti riconoscere il vero dal falso vi posso assicurare nelle teche ovviamente ci sono sia veri che falsi e vi posso assicurare che è difficilissimo ma questo lo facciamo proprio per aiutare a comprendere questo fenomeno io sono un archeologo e da di col mio tempo a cercare di raccogliere notizie sul comportamento di uomini morti da lungo tempo tuttavia mi piace pensare che anche la conoscenza archeologica possa dimostrarsi utile alla società utile nell'aiutare a pensare in maniera più chiara e quindi ad agire in maniera più umana vi ringrazio grazie ci sono domande io volevo solo notare far notare una cosa la mia domanda fatta ieri al capitano mauri aveva proprio una valenza di questo genere perché ahimè il decreto ministeriale che lei cita e che riporta l'elenco dei degli agnosti sotto c'è una frasetta molto strana che dice che in ogni caso non si è tenuti all'obbligo di utilizzare quegli elenchi per poter fare analisi sui beni culturali che secondo me ribadiva il concetto di creare invece dei poli come poi giustamente siamo corretti con Giorgio che raccorgano a livello territoriale le capacità diagnostiche insieme a quelle storico artistiche quelle chiaramente di tutte le figure che giustamente lei ha citato e poi questo genere ahimè sì perché in realtà il decreto ha un fine pubblicistico eh quindi in realtà è una formula eh vediamola così prima che esistesse l'ordine degli avvocati esisteva l'elenco nazionale dei giuristi stiamo parlando di secoli fa quindi prima o poi ci arriveremo speriamo in positivo eh mi verrebbe da dire e qua parlo a nome della professoressa salvadori di cui ho con cui ho l'onore di lavorare per cui posso parlare che è la nostra prorettrice al patrimonio culturale e la mia coordinatrice eh tutte le possibili collaborazioni fra noi i presenti in sala all'università di Pisa ben volentieri grazie tantissimo e l'università di Padova rappresenta un'eccellenza in tanti campi e anche in questa eh accogliendo dei ricercatori di chiara fama internazionale devo dire tra cui Artioli eh che tu conosci molto bene eh bene spero che nel futuro potremo di sicuro collaborare tutti assieme e risolvere questione spinose che sono state eh elencate e messe in chiaro come questa ultima grazie di nuovo e passiamo e passiamo all'ultima comunicazione di stamani presentata dal dottor Vincenzo Palleschi il falso in numismatica tra parentesi e come scoprirlo forse sì forse no direi che non anticipiamo le conclusioni ma eh siamo più o meno tutti d'accordo nelle difficoltà del nostro lavoro no? Nel nella determinazione di questa questo concetto diciamo abbastanza astratto di genuino non genuino vero falso che si può interpretare in tantissimi modi comunque buongiorno io sono Vincenzo Palleschi sono un ricercatore del CNR quindi porto eh una parte della mia esperienza come ricercatore CNR dopodiché posso togliere? Siamo tutti vaccinati quindi dicevo quindi porto la la mia esperienza come ricercatore CNR e e porto anche un'esperienza diciamo decennale di di docenza nel corso di di archeometria del dell'Università di Pisa quindi alcuni degli argomenti tra l'altro visto con molto interesse eh mi dispiace di non essere stato qui presente anche ieri sarebbe stato molto molto interessante ma avevo due congressi online contemporanei quindi con un orecchio seguivo uno con orecchio seguivo l'altro non potevo essere qui in presenza quindi dicevo avrei seguito molto volentieri anche eh gli argomenti del della giornata di ieri come quelli che ho ascoltato oggi che sono tra l'altro esattamente sulla linea di cose che da appunto da 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 dieci anni e passa che cerco di far passare ai miei studenti del corso del corso di archeometria e alcuni di questi concetti magari li ribadirò andando avanti nella nella mia presentazione perché secondo me sono abbastanza importanti e a volte sono stati sottolineati un po' di più un po' di meno dai relatori quindi magari vi dico anche come come la vedo io eh nello specifico oggi parliamo di monete monete antiche quindi monete e e archeologia eh la numismatica devo dire è abbastanza trascurata nel nel campo del dell'archeologia devo dire eh e secondo me inspiegabilmente perché le monete antiche hanno una caratteristica che che le accomuna poi alla alla ceramica di poter essere utilizzate appunto come si dice forse si diceva eh qualche tempo fa come fossi le guida per la 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 datazione di strati eccetera ovviamente a differenza della ceramica essendo normalmente le monete fatte di un materiale più durevole che poi viene anche riutilizzato eh le nostre informazioni cronologiche ovviamente possono dare soltanto un termine a spostquem termino spostquem eh di di del momento insomma a cui si riferisce il il nostro il nostro ritrovamento che vuol dire tutto vuol dire niente perché posquem è anche oggi rispetto al momento in cui la 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 moneta è stata è stata è stata emessa ovviamente va tutto interpretato secondo una certa una certa logica però la caratteristica della moneta non è soltanto quella di 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 poterci dare a volte delle datazioni almeno in termini di emissione che possono essere definite al mese no? Eh ma anche quella di avere questa questa doppia doppio ruolo doppia funzione di di uno strumento economico che eh se propriamente interpretato ci permette anche di 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 avere delle informazioni importanti su quello che è la la l'economia gli scambi della società eh in cui questa moneta eh circolava al tempo al tempo dell'emissione l'altro livello che è quello che poi anche eh a me personalmente interessa e piace moltissimo è anche il fatto che la moneta è sempre stata da quando eh ha cominciato a circolare ai giorni nostri uno strumento anche di propaganda importante eh poi vi farò un esempio andando avanti in cui secondo me il parallelo è abbastanza importante però pensiamo soltanto a questa moneta che rappresenta Giulio Cesare lo rappresenta in una maniera assolutamente non come dire non ufficiale perché non era consentito ai personaggi pubblici essere rappresentati nell'epoca romana sulle sulle monete proprio per il rischio della eh la l'impatto diciamo anche propagandistico di una cosa del genere e si dice che tra i tanti motivi che poi hanno portato anche alla all'uccisione di Giulio Cesare ci sia stato questa questa ibris di 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 voler e e poter essere rappresentato anche se appunto non in maniera ufficiale sulle sulle monete eh tra l'altro questa è una moneta che vale diverse migliaia eh di euro proprio perché tutto quello che è associato ai personaggi importanti della storia le monete bibliche ad esempio che hanno avrebbero un valore numismatico assolutamente trascurabile vengono moltiplicate per fattori eh notevoli e questo è l'altro livello ulteriore di 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 interesse della numismatica che le le monete sono anche a volte oggetti d'arte sono belle sono interessanti hanno un valore storico hanno un valore economico e quindi su questi piani dobbiamo secondo me eh lavorare e discutere quando si si discute del falso in in numismatica quindi un piano meramente economico che nel passato era collegato al valore proprio intrinseco del metallo del del della moneta poi un aspetto sociale economico un aspetto propagandistico anche come abbiamo detto e poi soprattutto sopra nel senso come sovrastruttura anche il fatto che queste monete oltre a essere oggetti interessanti dal punto di vista fondamentale dal punto di vista storico archeologico sono anche oggetti che hanno un loro valore collezionistico e non da oggi no si dice che il collezionismo di 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 monete antiche sia nato con Petrarca diciamo eh parliamo di collezionismo moderno perché sappiamo che anche gli imperatori romani collezionavano oggetti archeologici e sicuramente monete etrusche e così via andando andando nel passato quindi quando si parla di falsi eh dobbiamo ragionare su diversi livelli diciamo che il falso probabilmente più semplice da individuare è il il falso realizzato per aumentare il valore della moneta o se volete aumentare il valore dell'oggetto che stiamo producendo eh rendendolo paragonabile a quello della della moneta autentica e questo ovviamente è qualcosa che si poteva si può si poteva eh fare soltanto se la moneta aveva un suo corso legale non avrebbe avuto senso eh fare delle monete false che poi nessuno avrebbe voluto ehm accettare e questo è abbastanza ovvio e anche abbastanza ovvio che se eh la la moneta deve avere eh prodotta come falso deve avere un costo per il falsario inferiore notevolmente inferiore rispetto a quello della moneta autentica questo gioco funziona funzionava nell'attività per le monete d'argento monete d'oro cioè monete eh che comunque contenevano argento e che contenevano oro eh e non avrebbe avuto senso falsificare una moneta in bronzo ad esempio perché sotto il bronzo dal punto di vista sotto il rame diciamo dal punto di vista dei dei materiali non avrebbe sarebbe stato forse probabilmente fatto in ferro potrebbe anche costare un po' di meno ma non avrebbe avuto ragione di essere quindi diciamo che i falsi antichi sono anche abbastanza semplici poi da 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 realizzare perché si caratterizzano proprio col fatto di avere una composizione una lega o comunque una struttura che è completamente diversa rispetto alla moneta autentica e un eh una composizione di materiali che eh è sicuramente meno meno di pregio rispetto alla alla moneta autentica c'è però da dire che eh ormai è abbastanza eh consolidato diciamo anche nella comunità eh scientifica numismatica il fatto che alcuni di questi falsi non dobbiamo necessariamente attribuirli a del delle delle zecche clandestine fatte nel cortile di 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 qualche eh casa romana o o simili ma che alcuni diversi molti anche in questi falsi siano effettivamente dei veri e propri falsi di stato che uscivano dalle zecchie eh esattamente come le monete buone a volte in qualche situazione per la disonestà dello zecchiere eh abbiamo nel nell'inferno nel nel girone dei falsari c'è la il questo mastro Adamo che eh è condannato all'inferno per aver falsificato i fiorentini naturalmente eh togliendo tre carati di di oro dai ventiquattro del e questo appunto Dante lo lo mette lì i falsari venivano c'era la pena di morte insomma perché falsificava la moneta era una cosa abbastanza seria ma questo non frenava comunque il fatto che a volte lo zecchiere potesse comunque cercare di 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 lucrare sui materiali ma sappiamo sappiamo in maniera abbastanza definita che spesso era proprio l'autorità emittente che riduceva la 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 quantità di 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 metallo nobile in corrispondenza poi farò vedere un esempio abbastanza evidente in corrispondenza di situazioni in cui evidentemente dal punto di vista economico era necessario in qualche modo risparmiare e questo niente di nuovo sotto il sole insomma i governi sono sempre stati ladri sia quando c'era il sole che quando piveva quindi non non è cambiato molto nel passato dopodiché abbiamo le monete imitative e anche in questo caso eh la l'individuazione del falso è abbastanza evidente sono monete eh spesso diciamo anche antiche insomma che 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 iniziano a circolare in quantità abbastanza importante nel sedicesimo secolo con la riscoperta insomma del mondo del mondo classico del mondo del mondo antico eh si riconoscono perché sono monete che sono ispirate ai modelli classici sono dei sesterzi che non sono stati mai coniati al tempo di Roma e che sono stati riprodotti ispirati in questa maniera eh a Padova ad esempio no con la la produzione di Cavino qual è il problema? È che questi falsi d'autore eh soprattutto appunto i i padovanini eh del di 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 Cavino come si come si dicono sono sono diventati oggetti di collezione che valgono molto di più degli ipotetici originali che dovrebbero imitare e là stiamo eh siamo abbastanza nei guai perché eh un l'analisi scientifica potrà dire giustamente che non sono sesterzi romani del periodo primo secolo dopo Cristo o quello che sia eh secondo quello quello che vogliamo però dopo di che se eh si tratta di 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 una di una copia fatta appunto da 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 un grande artista che poi erano artisti eh o meno questo lo può dire soltanto lo 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 storico numismatico e sicuramente non lo possiamo dire noi con con la diagnostica che chi va poi a studiare la materia e la materia lì ci dice poco se andiamo nel grande mondo dei falsi moderni e allora di nuovo stiamo siamo nei guai perché non vuol dire che non si può fare niente vuol dire che la situazione è molto più complicata eh per diverse ragioni primo fra tutti che il il falsario eh moderno non non si preoccupa del del costo della materia prima perché comunque va a produrre un oggetto che per il suo valore eh estetico per il condizionismo eccetera eh gli riporterà con gli interessi il suo investimento sulla materia prima quindi non possiamo andare neanche a giocare quando è veramente insomma un falso fatto bene non possiamo andare neanche a intervenire su questo inoltre il falsario se è bravo studia esattamente come noi quindi sa quale sono le tecniche di 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 controspionaggio come si dice e cerca di spiare al meglio come nel campo appunto della 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 geopolitica tra spie eh nel controspionaggio esattamente o nello sport insomma doping anti doping è una corsa no? Chi studia di più vince e normalmente il falsario ha delle buone risorse studia perché ci deve mangiare e e spesso insomma vince la la corsa noi tra l'altro stiamo facendo delle delle bellissime discussioni guarda come siamo bravi questo è falso questo è falso questo eh questo invece è vero e probabilmente dovremmo pensare che nei nostri musei se andiamo a guardare bene non è soltanto questa bellissima iniziativa andate a vedere ce ne sono alcuni veri alcuni falsi andate in un museo eh vero e io ci metteremo la mano sul fuoco che la la metà delle cose per essere ottimisti che sono esposte in un museo eh archeologico probabilmente non non ci dovrebbero stare non sono non non sono reali e quindi c'è tutta una storia di successo dei falsari che noi non conosciamo proprio perché di successo ma eh tornando a noi quando si parla di falsi moderni appunto c'è questo problema c'è il problema che se noi vogliamo naturalmente affrontare come si deve eh il problema del dell'analisi utilizzando delle tecniche non distruttive non ci sono delle tecniche che permettono di datare un un metallo no? Quindi abbiamo veramente eh poche risorse ehm cerchiamo di giocarci alle bene naturalmente queste risorse ma non non è non è assolutamente non è assolutamente facile anche perché eh questo credo sia stato ripetuto all'infinito noi siamo molto bravi a dire quando c'è l'evidenza questo è falso ma anche quando c'è tutta l'evidenza tutta la compatibilità che l'oggetto sia vero questo non vuol dire che automaticamente sia genuino eh non non funziona al contrario insomma spendo solo due parole per ehm il cosiddetto falso antiquario almeno così l'ho definito io per analogia con il il restauro appunto cosiddetto antiquario che spesso si fa su oggetti reali stravolgendone completamente la natura proprio perché appunto se se si toglie qualcosa di qua se si aggiunge qualcosa di là poi il valore del nostro oggetto diventa molto maggiore e ce ne sono tantissime di queste eh nel campo della numismatica di questi esempi in cui magari lavorando con un po' di bulino e giocando naturalmente con una buona mano eh si riesce da una moneta di valore scarsissimo economico eh a farne un oggetto di di alto valore perché insomma le persone poi li piace avere tutta la bella moneta dettagliata lucida e pulita anche se poi questa quello che vede non è la moneta originale ma è una manipolazione di questa moneta quindi a tutti i livelli insomma dal dallo spatinamento e ripatinamento che è una cosa insomma lo sommato abbastanza tollerata e e tollerabile ma comunque è una manipolazione fino a a metterci proprio materialmente le mani sopra questo è un aspetto che va va considerato e anche su questo poi la la l'analisi scientifica può dire qualcosa può evidenziare almeno del eh dare delle indicazioni di questo tipo di di intervento cosa utilizziamo per l'analisi eh di in numismatica dei metalli beh non ci sono tantissime tecniche che corrispondono al al concetto di essere non distruttive e dare delle informazioni di essere anche accessibili poi al all'uomo comune che sia appunto il perito il conservatore o il numismatico la tecnica principale è la fluorescenza a raggi x e questo mi permetto di dire che il nome della tecnica è fluorescenza a raggi x eventualmente se vogliamo essere più precisi fluorescenza a raggi x a dispersione di energia si vede spesso citata questa tecnica che non esiste la pxrf serve portable xrf secondo alcuni ma la tecnica è xrf poi che venga utilizzata con uno strumento portatile è un altro discorso ma non è un'altra tecnica e quindi secondo me è bene che entriamo in questo ordine di idee e poi sono d'accordo che i primi strumenti di fluorescenza a raggi x ma neanche 30 anni molto di più da quando si usciva con le sorgenti in tasca non era insomma probabilmente non era un periodo in cui ero coinvolto in questi argomenti e in queste cose ma storicamente la fluorescenza a gx è uscita molto molto presto dai laboratori e a questa grande caratteristica adesso però che non si utilizzano più le sorgenti radioattive di poter essere effettivamente compattate strumenti di un paio di chili che si portano dappertutto quindi è una tecnica non distruttiva in tempi relativamente rapidi cita i suoi risultati vanno interpretati naturalmente perché nessuna tecnica è perfetta e neanche la fluorescenza da gx è una tecnica perfetta e il primo problema qua mi sembra che sia stato un po' trascurato il fatto che se vogliamo portare fuori uno strumento che produce raggi x c'è tutta una normativa molto stringente forse giustamente forse no nel momento anche del trasporto io non lo so l'unico rischio dello strumento è che ti caschi su un piede se è spento raggi x sicuramente non riproduce però c'è anche tutta una normativa che prevede determinate burocrazia nel momento in cui si sposta lo strumento da un luogo all'altro e non possiamo dimenticare dopo che è stato detto ampiamente che la tecnica è una tecnica di volume quindi non ci permette di sapere da dove viene il nostro la nostra informazione e poi non vede gli elementi leggeri ma questo per la numismatica effettivamente visto che l'alluminio i romani non l'adoperavano neanche nel medioevo rinascimento diciamo che ci possiamo più o meno più o meno stare un'altra tecnica che abbiamo utilizzato e questa ve la cito perché è comunque qualcosa su cui noi lavoriamo da anni è la cosiddetta laser induced breakdown spettroscopy la libs che è una tecnica bellissima che ha tutti i vantaggi che la xrf non ha tranne il fatto quindi non utilizza radiazioni ionizzanti permette di fare un'analisi in profondità permette di fare un'analisi con una risoluzione spaziale che può essere di pochi micron in superficie però purtroppo una tecnica micro distruttiva anzi la sua caratteristica di fare un'analisi in profondità perché proprio dal fatto che una tecnica micro distruttiva quindi io dico sempre può essere interessante da utilizzare ma è veramente l'estrema razio che noi possiamo mettere in pratica allora vedo che la professione colombini sta consultando l'orario perché mi sto dilungando che mi faccio vedere qualche qualche esempio subito di come la fluorescenza da gx eventualmente anche la libs ci possono dare delle informazioni questa è una moneta romana mettiamola tra virgolette denario repubblicano del secondo secolo prima di cristo è una moneta che rientra questo lo dico subito nell'ambito del falso quasi impossibile diciamo il giudice non si rende conto magari perché non si può pretendere che che abbia l'occhio però diciamo chiunque abbia un po' di di competenze numismatiche si rende conto che insomma è una moneta un pochettino particolare infatti se andiamo a fare l'analisi di fluorescenza da gx in cui abbiamo questi marker precisi che ci dicono gli elementi che sono presenti nella lega vediamo che rispetto a una moneta d'argento 835 quindi neanche particolarmente è carica d'argento questa riga d'argento nella nostra moneta d'argento ce n'è veramente poco e però c'è c'è stagno c'è rame vabbè rame questo c'è il piombo e va bene il piombo tutto sommato ci può anche stare e poi c'è l'antimonio poi c'è di nuovo le righe dello stagno quindi alla fine vediamo molto rapidamente in 30 secondi un minuto che la nostra moneta non è un denario repubblicano autentico perché i romani il peltro non lo non l'adoperavano questa è la lega di stagno piombo antimonio eh è la lega del peltro quindi vediamo subito che la la moneta non è eh non non è autentica e mh tra l'altro diciamo e qua vi faccio vedere un altro esempio eh qua invece abbiamo il falso di stato abbiamo un'analisi di cento e passa denari repubblicani fatto al monetiere di Firenze in funzione della loro data di emissione sappiamo come dicevo in alcuni casi proprio al mese quando una certa moneta viene viene prodotta e vediamo da un'analisi quantitativa che la la concentrazione di di rame eh guardate un po' in corrispondenza dei momenti di di crisi sociale di guerre eh carestie o quello che sia o diciamo carenza di fornitura eh vai lì e ci aggiunge un pochettino di rame toglie un po' d'argento e alla fine le casse ehm vanno e funzionano anche qua mh permettetemi di sottolineare una cosa questa è un'analisi quantitativa l'XRF è una tecnica quantitativa il concetto di tecnica semi quantitativa secondo me dovrebbe uscire fuori proprio dal dal discorso scientifico perché che vuol dire semi quantitativa vuol dire che mi fermo a metà cioè faccio una misura e poi do quantitativa e poi basta no una sorta di di misura interrotta no eh o faccio una misura qualitativa o faccio una misura quantitativa poi posso fare una misura quantitativa con grosse indeterminazioni però è sempre una misura quantitativa quindi se vogliamo tra amici chiamarla semi quantitativa va bene però forse bisognerebbe cercare anche dal punto di vista formale di utilizzare le termine che 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 siano secondo me più più corretti quindi misura quantitativa vediamo che la la concentrazione di di rame eh aumenta nei momenti di difficoltà qual è il momento di maggiore difficoltà della eh della Repubblica Romana al momento in cui finisce di essere Repubblica e con la guerra civile tra Marco Antonio e Ottaviano e qua vi faccio vedere questi bellissimi denari che che coniava a Marco Antonio eh per pagare i suoi legionari infatti sono si chiamano denari legionari e hanno questa caratteristica non so se vi ricorda qualcosa di avere una faccia comune che è la questa eh questa galè galè e mentre sul retro è personalizzata ogni legione c'aveva la sua la sua personalizzazione vi ricorda qualcosa tipo ad esempio l'euro che ha una faccia comune poi dopo eh il retro invece eh è personalizzato un modo anche questo per unire no nella stessa impresa che era la lotta appunto per il potere contro Ottaviano e tra l'altro dalla parte anche che riletta diciamo politicamente se avesse vinto sarebbe anche stata la parte giusta del del eh tra le due parti in in lotta e e questo diciamo quindi le differenze nell'unità eh molto moderno da 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 un certo punto di vista però quello che andiamo a vedere queste monete sono state coniate in due anni sostanzialmente di guerra civile trentadue e trentuno eh avanti avanti Cristo e noi non non da questo punto di vista non le possiamo datare però se andiamo a vedere la composizione cioè la quantità di argento effettivamente che c'è in queste monete ce ne sono alcune in cui si arriva a valori sotto il 70 per cento e allora il sospetto che queste siano state le ultime proprio monete dalle casse di Cleopatra più non si riusciva a tirar fuori eh è abbastanza importante no anche diciamo un po' la ragione le guerre spesso si perdono perché finiscono le risorse no chiediamo le russi nella nella guerra nella guerra fredda un'altra cosa simpatica vi faccio vedere vado un po' a salti naturalmente perché ho mi sono reso conto in questi ultimi anni ho fatto tantissime cose di numismatica sarà che mi piace quindi le persone se mi vogliono fare un piacere mi dicono guarda c'è una moneta da analizzare evidenza le manipolazioni questo è un una moneta eh tardo imperiale di di Massimino e molto bella tra l'altro questa è proprio eh di mia proprietà eh personale costa niente venti trenta euro quello che sia cioè veramente valore minimo però molto carina molto bella eh naturalmente la prima cosa che ho fatto l'ho messa sotto lo strumento per vedere come era fatto e ci sono delle eh delle righe molto evidenti di selenio che ci sta a fare il selenio su questa moneta il selenio si utilizza per brunire le casse le le canne dei fusciti no quindi anche per fare una bella patina bruna uno dice perché mi piace tanto questa moneta perché qualcuno eh ha fatto in modo che mi piacesse di più alterandone la patina diciamo peccato più o meno veniale ma si può fare dopodiché la stessa cosa eh l'ho vista in una collezione di monete sveve d'argento ancora presenza di 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 selenio e questa magari una cosa un pochettino più eh anche più grave nel senso che queste non sono monete da venti o trenta euro insomma quindi diciamo del collezionista forse si aspetta qualcosa di più eh genuino effettivamente un'altra cosa interessante che ho visto l'ho anche provata diciamo eh perché funziona che a volte si vedono in superficie delle righe di cromo da dove viene il cromo in una moneta eh antica è una delle tecniche per togliere la patina è l'elettrolisi se avete un elettrodo di di acciaio col cromo dentro il cromo si trasferisce sulla superficie della moneta ve lo ritrovate e tra l'altro appunto archeologia sperimentale ci ho provato anch'io anzi falsificazione sperimentale ma non per vendere naturalmente per per capire come funzionava effettivamente questo meccanismo di trasferimento funziona molto bene dopo di che però facciamo anche delle cose non soltanto per evidenziare i falsi ma anche per studiare diciamo delle monete che falsi non sono e questo è una delle prime prime studi che ho fatto con il nostro XRF eh moneta quattro soldi di Pio nono di Pio nono 1868 ci sono due monete due conosciute che che circolano che hanno hanno esattamente la stessa struttura della moneta del quattro dei quattro soldi normali ma con due stelline qui è anche una certa differenza diciamo qua le ho sovrapposte le due monete una sopra l'altra e quindi vedete ci sono delle zone di perfetta coincidenza e e altre invece in cui si nota proprio questa rotazione del del conio tra l'altro quando ho visto questa coincidenza ho detto vabbè falsa qualcuno l'ha rifatto invece no mi hanno spiegato eh gli esperti del del di di questo tipo di di monetazione che il Vaticano finisco rapidissimamente eh nello stato la chiesa anzi eh avevano per per i papi praticamente delle formelle che eh venivano composte cambiava il papa si lasciava la stessa stola la stessa papalina e cambiava il volto no quindi erano non so bene come come definirle ma sono dei pezzi di puzzle che poi venivano messi insieme nel e quindi diciamo il fatto di avere proprio una una corrispondenza identica è diciamo va a favore della dell'autenticità piuttosto che della non autenticità e analisi XRF si vede che la moneta nuova quella con le due stelline quella rara era fatta con molto più zinco rispetto all'altra quindi praticamente la la Pio Nono se avesse avuto tempo perché 68 70 71 insomma poi arrivano i piemontesi e finisce la lo stato della chiesa e avrebbe probabilmente coniato queste queste monete con una composizione molto simile al nostro oro nordico no questo la 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 lega con cui sono fatti i 20 50 centesimi che abbiamo noi bella lucida dorata eccetera il zinco non solo era più economico appunto dava questo bell'aspetto dorato finisco facendovi vedere una cosa carina per dire che appunto è importante studiare abbiamo fatto recentemente uno studio su la la praticamente l'intera collezione di monete d'oro etrusche che che c'è qui in Italia eh collezione e quindi probabilmente quasi nel mondo collezione che si compone di diciannove eh pezzi a Firenze nel monetiere più due a Volterra due a Piombino insomma quindi un numero molto molto limitato eh monete d'oro che si analizzano benissimo perché c'è una faccia liscia completamente quindi si fa l'iscaref perfetto non c'è assolutamente nessuna corrosione quindi l'analisi quantitativa è bellissima e si vede si si vede che sono monete che hanno sono fatte di oro e argento pochissimo rame quindi una sorta di elettro diciamo come eh come come lega non non è una una lega tradizionale e se andiamo a riportare su un grafico la composizione di queste monete sempre con un'analisi quantitativa eh fatta con l'XRF della concentrazione di oro rispetto alla concentrazione d'argento vediamo che ci sono delle grosse differenze e soltanto uno di questi gruppi corrisponde a monete che hanno un eh un riferimento archeologico nel senso monete che sono state acquistate da un contadino che aveva detto di averle trovate nel campo vicino a Popolonia se non sbaglio quello che sia non so se vogliamo fare non c'è tempo insomma di fare una sorta di gioco indovinate quale gruppo è quello buono quello con tanto oro e poco argento quello con tanto argento e diciamo in proporzione meno oro ecco la cosa divertente che l'unica moneta con riferimento archeologico è una moneta in cui praticamente argento e oro sono al cinquanta per cento e e questo ci fa pensare che il il i falsari anche in questo caso a volte si studiano ma non hanno proprio tanto la la gli strumenti ecco per arrivare a a capire che è vero che gli ruschi erano bravissimi nel nel nella lavorazione dell'oro ma evidentemente nelle monete gli piaceva di più avere come d'altronde anche i romani che non è mai piaciuto l'oro troppo valore in in un volume troppo troppo piccolo insomma piaceva di più insomma bilanciare con l'argento e questo è interessante delle diciannove monete ne abbiamo buttato via una quindicina come non non autentica va bene salto un passaggio che era il passaggio del della lips ma effettivamente non è particolarmente importante se non per dirvi che se avete bisogno di fare una stratigrafia il buco bisogna farcelo e quindi la lips sta lì apposta per farlo piccolo 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 e evitare di tagliare la moneta in due come in altri tipi di di analisi si può fare quindi salto perché non c'è tempo arrivo alle conclusioni e le mie conclusioni sono che non si può prescindere da uno studio micro analitico dei materiali nel nella numismatica che è l'unico strumento scientifico che si può effettivamente utilizzare ma da solo non funziona naturalmente si deve accoppiare con l'esperienza del numismatico in questo caso con la consapevolezza che anche nella perfetta armonia tra il diagnosta e il numismatico alla fine l'esperto in numismatica alla fine noi siamo bravissimi come dicevo a dire che una moneta o comunque un oggetto è falso mai potremmo asserire con sicurezza al cento per cento che un oggetto è vero ma né noi né lo storico dell'arte o il numismatico perché se è vero che la scienza non dà delle verità assolute a maggior ragione le verità assolute non le possiamo cercare nell'esperienza per quanto alta di di una persona quindi eh tutto quello che possiamo fare come è stato detto è dare delle delle probabilità d'altronde non siamo neanche certi che il sole sorgerà domani mattina però con ragionevole probabilità forse a domani ci arriviamo quindi ma non si sa non si sa chi può dirlo e questo però è il massimo che possiamo fare e con questa ventata di ottimismo che già è tanto che già è tanto vi ringrazio per la vostra attenzione grazie ci sono delle domande puoi chiudere il microfono un attimo per cortesia puoi chiudere solo un microfono un attimo perché ci sono delle domande che sono delle domande puoi chiudere il